Caregiver domande e risposte. Come accedere al bonus energia? In ambito energia, ci sono agevolazioni come bonus sociali per disagio economico, a cui si è automaticamente ammessi se si è in condizione di disagio economico, solo presentando una dichiarazione sostitutiva unica, ed il bonus disagio fisico per i clienti domestici affetti da grave malattia, o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto in gravi condizioni di salute, che utilizzino apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. La domanda va presentata presso il comune di residenza del titolare della fornitura elettrica, anche se diverso dal malato, utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal comune come i CAF. Grazie a tutti.